Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, in questi giorni di mondiale cominciano a circolare anche i nomi di mercato in vista del mercato di riparazione di gennaio. Chiaramente anche il Toro dovrà fare qualcosa sia in entrata che in uscita e la lista è già bella lunga, i papabili e possibili obiettivi della squadra. Chiaramente non staremo qui ad approfondirli uno per uno perché la maggior parte dei nomi usciti sono fuffa, scritta per riempire principalmente le pagine dei quotidiani che qualcosa da scrivere devono averlo, ma la mia sensazione è che comunque a prescindere dai nomi che poi si riveleranno concreti, qualcosina a gennaio verrà fatta. Verrà fatta in uscita andando a valutare delle situazioni anche un po' borderline, sia contrattuali che dal punto di vista motivazionale del singolo calciatore e in tal senso nei prossimi giorni uscirà un video, quindi vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campana di aggiornamenti per essere avvisati in tempo reale sulla programmazione del canale, ma anche in entrata la mia idea è che due o tre innesti possano esserci al verificarsi poi di certe situazioni. La priorità è il centrocampo che va allungato sia dal punto di vista numerico che qualitativo, sicuramente si valuterà l'innesto di una punta e di questo abbiamo già parlato in un video di qualche giorno fa e poi leggo che ci sono tanti nomi per entrambe le fasce laterali, quindi la mia idea è che si possa prendere in considerazione anche un semi-restyling già a gennaio magari portandosi avanti per il lavoro che andrà fatto quest'estate. Tra l'altro, ecco, tutto questo è possibile e ci facilita anche perché comunque il Toro a livello di classifica si è stabilizzato, direi che non ci sono problemi dal punto di vista di chi ci sta dietro, con una buona seconda parte di stagione si potrebbe pensare di incalzare chi sta davanti, però al momento, almeno sulla carta, il Toro è meno a livello qualitativo di 7-8 squadre e di conseguenza rientrare per una lotta al settimo posto la vedo abbastanza improbabile oggi. Poi, appunto, tra il campo e la possibilità di correggere la squadra a gennaio può succedere di tutto, ma significa mettersi dietro almeno una semi-big e quindi questo lo ritengo abbastanza complicato. Chiaramente un mercato di gennaio che andrà fatto con dei paletti posti e ben saldi, ben precisi. Il primo è quello delle formule perché il Toro a livello economico non può svenarsi, quindi difficilmente arriveranno giocatori a titolo definitivo, a meno che non siano magari virtualmente in scadenza di contratto, piuttosto che giocatori a cifre risibili, però queste sono operazioni più fattibili magari su un giovane semi-sconnessuto che non su un calciatore pronto subito da mandare in campo, per cui non so quante possibilità ci siano in tal senso, e soprattutto, e queste condizioni sindacabili, devono essere comunitari perché al momento il Toro non ha altre slot disponibili. Chiaramente le può creare come cedendo uno degli extracomunitari in squadra all'estero. Si è parlato per esempio di Sanabria, qualora Sanabria dovesse andare in Spagna, come si è paventato, dovesse arrivare delle richieste, se lui andasse all'estero a quel punto lì potreste tesserare un altro extracomunitario e fare altri tipi di ragionamenti. Però siccome al momento questa ipotesi non pare così probabile, dobbiamo ragionare invece su quello che è. Pochi giorni fa Cairo, in un'intervista, si è dibattuto di vari argomenti, ha detto qualcosa sulla questione della Juve, sulle seconde squadre, sui diritti tv, altro tema molto interessante su cui dovrò gioco a forza fare un video, ma per quanto riguarda il mercato, ha detto attualmente Vagnati è in Catara, ha visto una quindicina di partite, al suo ritorno mi verrà fatta una relazione e valuteremo se prendere qualche giocatore. Quindi il Torino, da quello che ci dice Cairo, ha seguito, sta seguendo, non lo so, questo è, non lo posso sapere, il Mondiale in Catara, perché potrebbero, ci dice il Presidente, esserci degli obiettivi di mercato che hanno, sono stati impegnati, nella massima rassegna di data per i nazionali. La lista Vagnati, così ho deciso di rinominarla, per comodità e per dargli merito, questo grande dirigente che ha queste grandi capacità, è stata pubblicata da Tutto Sport, in un articolo a firma Marco Bonetto, e evidentemente, visto che sono stati fatti dei nomi precisi, magari la redazione di Tutto Sport ha un filo diretto con il Torino FC. Non credo, ma non trovo altre spiegazioni, in quanto è molto difficile andare così nello specifico, senza qualche input che arriva dai diretti interessati, senza qualche imbeccata direttamente dalla dirigenza. In ogni caso, Tutto Sport qualche giorno fa ha pubblicato sette nomi, che adesso vi vado a leggere, vi voglio anche un po' parlare di loro, e poi tiriamo qualche considerazione nell'ultima parte di video. Quello più caldo, secondo il quotidiano torinese, è quello di Sofiane Bouffal. Esterno sinistro, classe 1993, marocchino, gioca nel Lange, contratto in scadenza 2024, destro di piede, in stagione in Ligue 1, tre gol e altrettanti assist. Ha una valutazione transfer market di 8 milioni di euro, e al Mondiale si è messo in mostra come uno dei giocatori più driblomani in circolazione. Poi c'è Junai Ito, anche lui, classe 1993, come Bouffal, anche lui gioca in Francia, ma nello Stade Rem, è un esterno destro, ha un contratto in scadenza 2026, una valutazione, transfer market di 9 milioni, e in stagione ha segnato 4 gol, messo a referto un assist, in 916 minuti, giocati in Ligue 1, e ha chiuso Qatar 22, anche con un altro assist. Poi passiamo a Timothy Weah, figlio d'arte, lo abbiamo visto segnare al Mondiale, davanti agli occhi, di Papa George, classe 2000, tutto sport lo definisce attaccante, in realtà è un esterno offensivo, che gioca principalmente a sinistra, il suo cartellino, come dicevo, appartiene al Lille, 4 presenze, un gol a Qatar 2022, valutazione, transfer market 12 milioni, contratto in scadenza 2024. Poi un altro nome che ha fatto tutto sport, e questo a me piace molto, ma, e poi vi spiego perché, è irraggiungibile perenni motivi, è quello di Tyon Buchanan, esterno destro, classe 1999 del Bruges, nazionalità canadese, vi avevo parlato di lui nei video di presentazioni al Mondiale, contratto in scadenza 2025, anche lui, valutazione, transfer market 12 milioni di euro, quest'anno ha maturato 12 presenze, tra Jupiter League, quindi massima divisione belga, e Champions League, dove si è messo in mostra. Chi rimane ancora? Michael Damsgaard, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, attualmente è testerato con il Bramford, col quale ha un contratto in scadenza 2027, ha una valutazione transfer market 15 milioni di euro, e per quanto riguarda il ruolo, vabbè, Damsgaard lo conosciamo, nella Sampa ha giocato mezzala, ha giocato esterno offensivo, ha giocato trequartista, è praticamente molto duttile, e potrebbe essere un giocatore che, nel piano gioco di Juric, ha le possibilità di fare bene, va detto che purtroppo Damsgaard si porta dietro delle incognite fisiche non da poco, questo se vogliamo dare una presentazione del calciatore, ci sono ancora due nomi, quelli un pochino più underdog, il primo è Jakob Kaminski, alla sinistra del Wolfsburg, classe 2002, contratto scadenza 2027, valutazione transfer market, 10 milioni di euro, quest'anno un gol e tre assist tra Bundesliga e Coppa di Lega tedesca, e poi Yaziedino, Unai, classe 2000, centrocampista, De Lange, 14 partite in Ligane, 1641 minuti, 0 gol, 0 assist, titolare del Marocco, che ha giocato a Qatar, 2022, scadenza di contratto, 2026, valutazione transfer market, 3,5 milioni di euro, come vi dicevo, ecco, Unai come ruolo, viene messo centrocampista, lui può giocare interno-destro, oppure esterno, in 4-4-2, è un giocatore abbastanza poliedrico, e al netto di tutto, uno dei nomi più interessanti di questa lista. Ora, col massimo rispetto per Bonetto, e per chi ha compilato questa lista Vagnati, io trovo che questo elenco lascia un po' il tempo che trova, ho avuto modo di discuterne anche su Twitter in questi giorni, quindi seguitemi anche lì, se ancora non l'avete fatto, e perché questa lista mi perplime a tal punto da non considerarla particolarmente veritiera, non perché il Toro, ragionando per assurdo, non possa avere in qualche modo seguito questi calciatori, ma per tutta un'altra serie di motivi. Il primo riguarda proprio i nomi, che sono praticamente, dal punto di vista economico e anche di prospettive, ormai irraggiungibili, per una squadra di dimensioni del Torino, a parte un paio di eccezioni. Ma perché sono irraggiungibili? Perché giocano già in squadre consolidate, in medioatta posizione dei loro rispettivi campionati, hanno già presenze europee, sono comunque giovani in rampa di lancio, quindi sono comunque giocatori sui quali tu dovevi arrivare, nel caso in cui ti interessassero davvero, con un pochino più di anticipo. Di questa lista, a parte forse Kaminsky e Unai, nessuno è prendibile. Perché? Perché Unai, per esempio, prima l'ho definito un underdog, è un giocatore ancora poco, diciamo, famoso, che si sta facendo al grande calcio, sfruttando la vetrina del mondiale, e quindi è prendibile, tanto è vero che, vi ricordate, vi ho detto, ha una valutazione transfer market molto bassa, questo non vuol dire nulla, ma sicuramente di tutta la lista è quello ancora un pochino raggiungibile, proprio come obiettivo. Poi, anche a livello di ruoli, cioè questi sono praticamente tutti trequartisti o esterni alti, dove il Toro, posizione in cui il Toro non ha bisogno, perché è estremamente coperto dalla presenza di Blagic, dalla presenza di Mirancuk, dalla presenza di Radonic, e quindi, anche se andassi a fare un intervento in quella zona di campo, ammesso che sia una priorità, e non lo è, io credo che tu possa andare su un profilo differente, magari, su uno un pochino più giovane, da crescere alle spalle dei tre che si giocano, le due posizioni da titolare. o una I invece, praticamente sarebbe spendibile, perché potrebbe fare la mezzala di destra, come gioca nel Marocco, oppure l'interno destro o l'esterno destro, come gioca nel Lange, quindi, a questo punto, andresti a prendere un 22N, rampa di lancio, e potrebbe essere una, un'idea interessante, posto che poi, saresti quasi obbligato, inserirlo nelle rotazioni del centrocampo. Altra cosa, ok essere presenti al mondiale, formalmente, e magari assistere anche a qualche partita da vivo, per rappresentanza della società che vai a, appunto, a rappresentare, ma non chiamiamolo scouting, questo non è scouting, che è tutt'altra cosa, e noi non sempre, soprattutto sotto questa dirigenza, anzi quasi mai, siamo stati in grado di farlo. Tra l'altro, ecco, non avrebbe senso andare a osservare i giocatori a un mondiale, perché, un campionato del mondo, per definizione, è un torneo estemporaneo, nel quale incidono mille fattori differenti, non si è mai comprato bene, basandosi soltanto sulle prestazioni di un singolo calciatore al mondiale, anzi, anzi, se un calciatore fa bene al mondiale, la sua valutazione sicuramente si alza, quindi, paradossalmente, è il momento peggiore per andare ad acquistarlo, e, poi anche per un altro motivo, del quale io sono stracovinto, convinto, che i calciatori vanno seguiti sulla continuità. Quindi, se ti interessa, a me se non concesso che sia vero, se ti interessasse uno di questi calciatori, della lista di cui abbiamo parlato prima, il mondiale è l'ultimo posto dove lo devi andare a osservare, ma devi, appunto, guardarlo sulla continuità con il club, perché è il club che ti dà la continuità. E a quel punto lì puoi farti un'idea più precisa di come il giocatore, di che caratteristiche ha, di quello che ti può dare o meno, di quelli che sono eventualmente i difetti da limare. Viceversa, andare a un mondiale a osservare i giocatori è come andare in un concessionario di lusso a guardare le macchine quando sai già che tanto non te le puoi permettere. Ecco, questo era un po' il concetto che volevo esprimere. Voi cosa ne pensate? Ditemelo con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione, attivate la campana di aggiornamenti e lasciate un like al video. Ci vediamo molto presto, grazie per avermi ascoltato e sempre Forza Toro!